Allora amici siamo in cammino, la temperatura è veramente esagerata, qua in altura saremo 34 gradi, su questo sterrato poi non vi dico, ogni 200-300 metri ci dobbiamo fermare un attimo. E cosa sto facendo oggi? Oggi sto andando a vedere un menire che ho scoperto anni fa, molto bello, in una zona dove già precedentemente avevo scoperto un sito antico al Giovo Ligure, molto molto interessante. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora ragazzi eccomi qua nella zona del menire, come vedete è un posto molto molto affascinante, ci sono tutti questi massi, di solito qua quando è inverno c'è proprio una cascata lì, l'acqua scende le prusce, lì c'è un altro salto lì sotto, è proprio per questa cascata che sono riuscito a individuare questo menire, mentre ora cercarlo è già più difficile, comunque se lo si vede è già qua, eccolo lì, adesso scendo ve lo inquadro là vicino, eccolo lì. eccoci qua ragazzi, eccolo qua, aspettate che scendo, eccolo qua. guardate che meraviglia ragazzi, mi siedo un attimo qua davanti. come vedete è stato infisso volutamente a quella base, sarà alto un metro e dieci più o meno, la parte sotto più larga sarà 80 centimetri. probabilmente è stato infisso qua volutamente, vi dicevo perché qua si forma un lago, guardate questi massi enormi. e qua c'è tutta una cascata, quindi questa simbologia potrebbe essere legata a un rituale che si faceva qua. allora stesse riprese però con il grandangolo, quindi abbiamo una visuale un po' più ampia, eccolo qui il menire. come vedete è molto bello, col tempo si è praticamente levigato anche con lo scorrere dell'acqua, sembra quasi diventato marmo e lì sotto possiamo vedere che è stato proprio infisso con l'aiuto di alcune pietre. visto che sono scelto vi faccio vedere meglio come è stato infisso qua il menire alla base, guardate, vedete tutte quelle pietre sono state messe di taglio per tenerlo retto in questa posizione e non farlo cadere in avanti. è più delle pietre dietro, qua stiamo parlando di secoli e secoli fa, antico ligure, guardate che meraviglia ragazzi. poi dato che qua tutte le volte che sono venuto era pienissimo d'acqua, approfitto di questa siccità per vedere se si vede qualcos'altro e forse ho visto qualcosa che non avevo mai visto là. adesso mi avvicino, guardate lì, sembra una vaschetta, adesso vado a vedere, guardate qua ragazzi, è una vaschetta molto bella, però io azzarderei una vaschetta naturale. probabilmente l'acqua che defluisce dall'incima, goccia su goccia, goccia su goccia, milioni di anni, ha fatto questo foro. piano runa, ce la facciamo a passarvi qua? non è facile eh, piano, piano, dai, piano, 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 no, sali su, vieni, su, su. dove è andata? vieni, adesso ti tocca fare il giro eh, dai, dai, passa di là, passa di là, fai il giro. ma si può essere così? dai, vai di là, di là, vai di là, piano, dai, stai lì che adesso vengo, stai lì, stai lì. questa è tutta l'acqua che è rimasta al Giovo Ligure, pochissima, però, a parte l'acqua, guardate che quanto è affascinante qua, sembra di fare un salto proprio indietro nel tempo. ci sono delle cose che si sentono proprio a pelle eh, e qua sarebbe tutto da esplorare. io questa parte qua ad esempio, qua in cima, da questo lato qua, non ci ho mai guardato. grazie a tutti. grazie a tutti.